C'è aria di festa nella parrocchia San Domenico a Caltanissetta perché da ieri hanno avuto ufficialmente inizio i laboratori di misericordia. Si tratta di attività con finalità sociale attraverso arti e mestieri che aiuteranno a sviluppare coesione e comunità. Si tratta di una esperienza della comunità e per la comunità. Abbiamo iniziato ad avviare e ufficialmente avviamo questa sera una serie di momenti di formazione ma anche di amicizia, di confronto intergenerazionale e intragenerazionale. Quindi tra i ragazzi ma anche con gli anziani, con le famiglie del quartiere. Faremo dei laboratori per la lavorazione del gesso, per il teatro, la chitarra. Una serie di attività che servono a creare comunità per il bene di tutti gli abitanti del quartiere. È un'esperienza molto interessante che possiamo fare grazie al contributo del Comune ottenuto attraverso il bilancio partecipativo. E dunque c'è anche un incontro fra la sussidiarietà, cioè un intervento dall'alto, e la solidarietà. E cioè questa relazione che dal basso trasforma tutto e crea il bene. Il progetto avrà vita grazie agli 8 mila euro del bilancio partecipativo 2020. Sono stati dei progetti che verranno, sono dei laboratori che verranno finanziati con delle somme comunali, insomma del bilancio comunale pari ad 8 mila euro. Il bilancio partecipativo costa sostanzialmente di due fasi. La prima fase è con il quale i cittadini hanno scelto le aree, tra le quali è rientrata quella dello sviluppo economico. Poi sono stati elaborati e presentati dei progetti, tra cui quello dei laboratori di misericordia. E poi vi è stata un'ulteriore votazione che ha permesso ai laboratori di misericordia di vincere con i voti dei cittadini misseni.